Mi chiamo Fabio Santini, sono un giornalista, una voce radiofonica, un volto televisivo e ho una passione, una magnifica ossessione che mi ha accompagnato tutta la vita, da quando avevo 13 anni ai giorni nostri, ed è Sergio Leone. Ed ho scritto questo libro che si intitola Sergio Leone, perché la vita è cinema. Che cos'è questo libro? Su Sergio Leone sono usciti diversi libri in Italia, tantissimi in tutto il mondo. Sono tutti libri estremamente profondi, molto tecnici, cioè o si è dei cultori della settima arte o se no non sono del tutto digeribili. E allora c'era uno spazio. E visto che io sono un giornalista da oltre 40 anni, ho voluto raccontare il suo privato. In questo ho avuto il privilegio di frequentare la famiglia Leone anche dopo la morte di Sergio Leone è avvenuta il 30 aprile del 1989 e di avere molti anni fa, dalla compianta moglie del maestro Carla Ranalli, la sua compagna di vita, il diario della sua vita accanto a Sergio. Questo diario è diventato proprio il fil rosso di questo libro. E c'è tutta la passione, l'amore di questa donna verso suo marito e l'idea di dire delle cose per far apparire Leone per come era, come uomo, al di là del fatto che fosse un genio cinematografico conclamato in tutto il mondo. Come ben sapete, proprio pochi giorni fa, alla Festa del Cinema a Roma, Martin Scorsese ne ha tessuto gli elogi. Bene, giovedì 24 ottobre, alle ore 18 all'IBS Il Libraccio, di via 20 settembre 1993, io presento questo libro. Eccolo qua, perché la vita è cinema, Sergio Leone, non è una presentazione di un libro di quelle classiche in cui ci sono gli ospiti, il presentatore. No, facciamo vedere delle ispezioni dei film, ascoltiamo la musica di Ennio Morricone. Insomma, viviamo assieme l'intensità e la passione per questo grande del cinema, dello spettacolo, della cultura italiana. Il 24, fra l'altro, è il giorno in cui il presidente Mattarella viene a Bergamo a visitare la città, quindi simbolicamente un grande presidente, un grande regista, il più grande regista, il più grande rappresentante del cinema italiano nel mondo, Sergio Leone. Io non sono un critico di cinema, sono un appassionato. Il film di Leone nel mondo tra cinema e televisione sono stati visti da oltre 2 miliardi di persone. Faccio parte di questa folla sterminata che tutte le volte che vede un film di Leone si riappassiona come fu la prima volta. Mi chiedo ancora oggi, che ho una certa età, perché questo accade e non so darmi una risposta così che sia plausibile in qualche modo, ma forse la risposta è proprio la diede Leone in maniera disarmante. Disse, beh, il cinema non invecchia perché in fondo il cinema è vita. Ecco qua, la vita e il cinema, per questo ho usato questo titolo. E vi devo dire che sono convinto che è un libro che vi piacerà perché va oltre la critica, va oltre i generi e dipinge la storia di un uomo che era come tutti noi, ma che aveva un genio unico al mondo. Ore 18, giovedì 24 ottobre, IBS Il Libraccio, via 20 settembre 93, Bergamo. Vi aspetto.